Benvenso! Ho trovato la porta aperta e sei intotto! Come lo sai? Come faccio a saperlo? Secondo te come farò a saperlo? Se sei qui ti bevo, e quindi vuol dire che sei intotto. Ho un puro spirito, ti credi? No, Angelica, non sia sta squattararai, cibo Giacomino. Grazie, grazie, grazie! Senti, Giacomino, sei mai stato a Lourdes? No, a quelle partite ci sono mai stato! E poi, oh, la bicicletta è rotta! Ecco, appena lo impari, baci e prega. Prega tanto! Ma ora vuoi tagliare la mia piantaio? Eh, perché? Affinché la madonna faccia il miracolo e illumini il tuo bel cervellino. Oh, potremmo andare a saperlo, lo sai, grazie. Oh, da lui è buro! Giacomino, come mai sei qui? Mio fratello Eugenio, mi dedico a insegnare il discolo a Napolo all'Angelica Che cosa ti ho detto di consegnare a mio genio? Il discolo a, discolo a Napolo Senti Giacomino, ascolta poco poco ad Angelica Non è che oltre all'urdo potresti allungare la strada e fare un salto anche a Fatima? Sai che due madonna Oh Angelica, non sai che la bicicletta è rotta? Luca, a te, metti tanto in questo Oh finalmente, ci voleva tanto Angelica, e te questa cosa? Questo è il dischetto per il programma di Sky Da mettere nel computer per comunicare Comunicare che cosa? Ah mamma, te l'ho già spiegato È per chattare, è un programma per chattare Serve per trovare l'anima gemella Ma io mi sei andata sola Ce l'ho anch'io se lo volete sapere quel giorno Fia subito Fia subito Fia subito Fia subito Fossi vai passare Sansia del fatto Io festeggiamo il dietro evento con gli amici Devo a dir Asta cominciare a festeggiare Ma non mi morì a capite E ho altra disgrazia Sabbi Ciao belle donne Buongiorno Buongiorno Ciao Angelica Ciao Angelica Qualcun te? Lui è mio fratello Angelio Lui è mio fratello Angelio Oh bello che c'è anche il mio fratellino Giacomo Come va la vita Angelica? Perché stai cercando l'uomo dei tuoi sogni su internet? No Angelica Lui è che ti dà a cucinare Che la gente si intera in domenica e non d'olio Chiaro? Ci sentite se hai un gatto E su Casteldu Ma interista se è in domenica e non ti deve rimbuccare Chiaro? Grazie